Nell'era dell'informazione e dell'economia dei dati, le aziende italiane non conoscono ancora bene i propri clienti. Solo un'impresa su dieci dichiara di averne una conoscenza buona o eccellente, mentre un'azienda su tre ammette di avere una conoscenza del cliente insufficiente o gravemente insufficiente. Questa è la principale evidenza che emerge dallo studio La Digitalizzazione delle Vendite in Italia 2024, realizzato dagli osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, insieme a Minsight, società del gruppo Indra, specializzata negli ambiti della Digital Transformation e delle Information Technologies. Le aziende medio-grandi hanno adottato già da tempo dei sistemi di raccolta dell'informazione e di elaborazione, le aziende piccole no e poi c'è un fattore di mercato dove i mercati, per esempio del mondo bancario, finanziario, del mondo assicurativo, del mondo delle telco e media, sono più avanti per natura di business e perché hanno fatto degli investimenti negli anni precedenti. Il rapporto analizza inoltre le azioni da mettere in campo per migliorare la conoscenza dei clienti. Si parte innanzitutto con una visione, cioè bisogna avere bene e chiaro in mente quali sono le informazioni che sono rilevanti, perché oggi col percorso di digitalizzazione della relazione col cliente sono più le informazioni disponibili di quelle che servono e che si possono elaborare, mentre negli anni passati era il contrario, c'era una carenza di informazioni. Quindi bisogna sapere bene cosa serve, qual è il modello informativo dei dati che ci servono. Due, bisogna pianificare una struttura di raccolta delle informazioni dai diversi canali digitali e fisici ed avere una vista integrata. La terza parte è quella di, una volta raccolte queste informazioni elaborate, quindi ricavate delle informazioni utili, fare dei piani di comunicazione, di ingaggio, di servizio, anche qui sempre in un'ottica integrata. Quindi in modo tale che le azioni che si fanno sui vari canali abbiano sempre la possibilità di vedere in maniera integrata quello che è stata l'interazione del cliente. Oggi si parla di CDP, di Customer Data Platform, da un punto di vista tecnologico. Che cos'è una Customer Data Platform? È un layer tecnologico che si mette on top ai diversi database dove vengono raccolte le informazioni e serve a far alzare le informazioni che sono utili e elaborarle proprio con una vista integrata per canale, per cliente o per altre informazioni. Si evidenzia che questa conoscenza limitata dei clienti è quindi dovuta principalmente ad una strategia di raccolta, integrazione ed analisi dei dati inadeguata.